Ciao amici e benvenuti in volta, sono il maestro Vittorio e ho preparato questi video corti per il Club London Fencing Club, per aiutare a mantenere la sua fitnessa e la sua forma in tempi in cui non puoi accettare il maestro. Tutti gli esercizi che ti suggerisco sono disponibili per un piccolo spazio, significa che lo puoi accettare a casa o a casa, o se vai nel parco o nel giardino, dovrebbe essere meglio. In questo video voglio mostrare alcuni esercizi per migliorare la sua speeda e lavorare sul vostro spazio. Iniziamo! Il primo esercizio che voglio mostrare è il Stando Long Jump, devi iniziare con i piedi con distanza di piedi e poi devi prendere i piedi e spazio i piedi con le braccia, poi devi spazio e spazio i piedi con le braccia, poi devi spazio e spazio i piedi con le braccia. Poi devi mantenere la spazio e provare a mettere la lente. Il prossimo esercizio è un lateral broad jump. Poi in un'ungetto posizione, ripetete il fronte del piede e ripetete. Usate le braccia per provare a te e provare a te e provare a te e provare a te. Focose su sticcare il piede con il piede con il piede verso la stessa direzione quando ti spazio e quando ti spazio. Poi in un'ungetto posizione, quando ti spazio il piede con 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 il piede. Il prossimo esercizio è un reverse long jump. Devi iniziare in posizione di hangar, devi ripetere i piedi con il piede con il piede con il piede. devi direzzi, devi portare il piede con 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 il piede verso il piede con l'altroijozzo. neben di essereccati anche ilcksono e fate rispetti per l'altro piano. c'è un altro esempio di lungo lungo lente in reversa su un piede quindi si riuscite con il fronte e si riuscite con il back foot l'exercice che voglio mostrare ora è il shuttle il shuttle è durato per 3 minuti, è diventato in due parti la prima parte è 30 secondi con una lunga lunga, percorso e percorso per circa 2 metri e le altre 30 secondi sono in un guard posizione devi muovere più veloce come si riuscite, percorso e percorso per 3 metri l'exercice è iniziato con una lunga lunga lunga, percorso e percorso e guardando il tempo, per 30 secondi devi muovere percorso e percorso e poi proverta l'exercice, percorso e percorso e percorso e poi, percorso e percorso e percorso e quando si riuscite a 30 secondi a finito, devi cambiare la legge e devi continuare per tutti i 3 minuti I hope the exercise will help you to improve your footwork and if you have any questions please feel free to ask me what you want and leave in a comment and I will do my best to answer. Thank you and see you to the next video.